Per comprendere tutto questo cambiamento, e ne ho citato solo un pezzo, è necessario conoscere bene i contesti, conoscere bene una cosa che ho chiamato come prime lezioni le parole del digitale. Ma perché? Perché, vedete, ho scoperto che tra i nativi digitali, che di solito vengono considerati quelli che ne sanno, solo perché si muovono molto velocemente col dito, non sanno la differenza tra internet e web. Una è una rete, che connette cose, e l'altro è un web browser, che fa vedere le cose all'interno di una pagina HTML. Quindi già l'app non è web. Eppure viene, vabbè, certo, ci sta, viene semplificato così. Per cui, banalmente, è bene per conoscere il contesto, è bene, io non sto guardando i miei messaggi, cercando di vedere l'indice che mi si spegne, è bene capire il contesto. E per capire il contesto, a volte, conoscere le parole, qualche acronimo, ma non per fare, come dire, tecnicismi inutili, perché intanto cominciamo a sapere di cosa stiamo parlando. Grazie a tutti.